Una fila lunga di persone in attesa dell'effettuazione del test sierologico. Quella di stamattina presso l'ospedale Santissimo Rosario di Venafro. Lì dalle 8 e 30, ma alcuni ci hanno detto aspettavano dalle 8, i docenti e gli addetti del personale ATA della provincia di Sernia che nei giorni scorsi avevano effettuato la prenotazione online del test. In questo modo l'ASREM si proponeva di gestire in modo efficiente il flusso delle persone evitando assembramenti. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Intorno alle 10 erano circa una cinquantina le persone in fila, tutte con la mascherina ma l'una accanto all'altra. Non disponendo dell'autorizzazione a filmare da parte dell'azienda sanitaria, altro non possiamo fare che riportare lo sconforto e in certi casi la rabbia di quanti da oltre un'ora e in condizioni precarie attendevano il proprio turno. Ad un certo punto qualcuno tra il personale sanitario ha aperto la porta di una grande sala riunioni allo scopo di ampliare lo spazio a disposizione con il conforto di un posto a sedere. Intanto alcune delle persone che si erano prenotate, come quella che abbiamo sentito fuori l'ospedale, esasperate, stavano andando via. Che dobbiamo dire? È un disservizio che si è creato, non sappiamo per quale motivo. Poi dicono, ci hanno fatto venire persone da ogni parte della provincia di Sernia, questo è l'unico punto dove vengono effettuati questi test sierologici e non si è capito per quale motivo, siamo tutti qua alla stessa ora, dentro ci sono decine di persone che aspettano in fila, se non hai il Covid te lo prendi, rischi che qualcuno veramente te lo infetta. Sono test su base volontaria, noi rinunciamo, ce ne andiamo, siamo venuti qua però a che pro dobbiamo restare e aspettare ore e ore, ce ne andiamo. C'è anche un discorso legato al timore dell'assembramento? Certo che c'è, veniamo qua per evitare di risultare positivi, cioè per verificare se siamo positivi e di contagiare il Covid eventualmente ad altri, ma dentro ci sono 50 persone e mi tengo basso e quindi il Covid si passa facilmente così.